Siamo a Settimo Torinese per l'inaugurazione del nuovo mercato di Campania Mica. Taglio del nastro a Settimo Torinese per un nuovo mercato di Campania Mica, un importante tassello per la rete torinese di Campania Mica. I mercati di Campania Mica sono i mercati degli agricoltori, in inglese farmers market, dove vengono venduti solo prodotti agricoli italiani provenienti dai territori, quindi a chilometro zero. Ora anche i consumatori di Settimo Torinese e dintorni avranno a disposizione le produzioni agroalimentari di alcune fra le migliori aziende agricole della provincia e non solo. Abbiamo scelto Via Roma perché è una via di più o meno recente pedonalizzazione. Il commercio ci ha chiesto di portare delle attività di qualità su questa via e noi abbiamo pensato che Campania Mica fosse il partner migliore da portare in questo contesto. Via Roma è una via pedonale che si presta molto a questo tipo di attività, è una via che porta verso la stazione, quindi sarà facile effettuare i propri acquisti passeggiando e poi potendo andare a casa. È stata localizzata anche qui perché l'idea è quella di progettare insieme ai nostri commercianti e ai nostri mercati un commercio diverso, un commercio sostenibile a misura d'uomo, a misura di cittadino. Siamo sicuri che i cittadini di Settimo apprezzeranno. L'appuntamento sarà qui, in Via Roma, tutti i giovedì pomeriggio. L'amministrazione è un investimento importante, una collaborazione importante che speriamo di poterla mantenere nel tempo. Finalmente è un mercato, un centro paese, un altro tassello di Campania Mica che entra in città. Campania Mica ha un importante processo di introduzione dei prodotti a chilometro zero all'interno delle città, un altro tassello che valorizza i nostri prodotti. Si vede anche dall'affluenza di questo mercato in un orario abbastanza inusuale, che la gente ci crede. Sempre di più i nostri agricoltori portano sulle tavole degli italiani i prodotti certificati e di filiera. Uno qui può conoscere esattamente da dove arriva il prodotto e averne sicuramente la certezza e la tracciabilità. Per cui Campania Mica è sempre più avanti sui territori del Piemontese. Il vantaggio della vendita diretta è un vantaggio importante, taglia completamente la filiera, per cui si saltano tutti i passaggi, il valore aggiunto vale a aziende agricole e non rimane in mano ai soliti. Per cui valorizzazione del prodotto parte da una vendita diretta e sempre di più il taglio della filiera diventa un fattore essenziale per valorizzare il lavoro e la fatica delle nostre aziende. Per noi è una grande opportunità questa, poter far conoscere i nostri prodotti, poter far conoscere le attività che vengono svolte al di fuori della città, perché sicuramente i produttori Campania Mica hanno questa peculiarità, raccontare quello che propongono, il prodotto che ti viene venduto. È una zona che comunque l'agricoltura è ancora sentita, anche se non nella città, ma tutto nei dintorni, sia la pianura che la collina, ci sono ancora molte aziende agricole. Quindi siamo veramente orgogliosi di essere qui e che questa, io l'ho chiamata avventura, possa continuare il più possibile, anzi venga anche ampliata e altri produttori del territorio possono far parte di questo mercato. Grazie